Uh, cala il sipario! Guardati! Ricarico gli scudi. Mi hanno abbattuto! Credo che quello fosse l'ultimo. Tanto stabilito. Lancio granata a frammentazione. Tanto stabilito. Mi cavalliuto. Quello era l'ultimo individuato. Mi hanno individuata. Mi stanno colpendo. Arriva l'imbroglione. Devo ricaricare i miei scudi. Salta nel fondo. Almeno l'Anello è vicino. L'amico abbattuto. Ho ucciso un nemico. Ho il banni. Adesso potrò recuperare la mia squadra. Attenzione. Anello sto curando. Mi sparano e hanno un pacchetto. Signore e signori sono morti stecchiti. Squadra... Nemico vicino. Versaglio laggiù. Attenzione. Apro il fuoco. Un nemico laggiù. Sparano. E allora, buona mira. Lancio granata termita in corso. Mi hanno individuata. Mi stanno colpendo. Ce n'è uno, proprio qui. Arriva l'imbroglione. Devo ricaricare i miei scudi. Lancio Stella Arce. Nemico proprio qui, proprio di fronte a me. Non ci sono. Vai così. Siete i campioni Apex.